Ciao a tutti ragazzi, oggi come vi avevo promesso parliamo di 5 scarpe da trail particolarmente pensate anche per il trekking. La mia top 5 di scarpe natale ne ho provate veramente tante e oggi vi spiego quali secondo me sono le migliori per questa specifica attività. La prima scarpa di cui voglio parlarvi sono le Scott Super Track 3. Io le utilizzai durante il ferriere trail ma è una scarpa veramente molto pensata per il trekking. Abbiamo una suola proprietaria di Scott, la All Terrain Traction, col quale mi trovai molto molto bene. È una suola che può andar bene anche per le parti fangose, non ha un grip particolarmente pensato per quanto riguarda la roccia perché ha un compound abbastanza duro che però la porta ad avere una grande durabilità. È una scarpa che può andar bene un po' ovunque, io la sconsiglierei un attimo sui terreni un pochino tecnici per quello poi abbiamo un altro modello, però dal livello di suola mi aveva convinto molto. Un altro aspetto che mi aveva convinto particolarmente era l'intersuola realizzato in Aeroform Plus. Mi aveva convinto molto e ve la consiglio per il trekking proprio perché è anche abbastanza secca come scarpa, è ammortizzata ma ammortizzata al giusto, nel senso che quando andiamo a correre il piede non ci sprofonda e la possiamo utilizzare davvero per tante ore di camminata. Io ci avevo fatto anche qualche trekking per provarla e mi ce l'ho trovato molto molto bene. Per quanto riguarda invece l'atomaia, è un'atomaia abbastanza protettiva, realizzata in nylon ripstop, quindi anche qua buona la traspirabilità e buona anche la protezione dal punto di vista delle rocce. In generale era una scarpa che mi aveva convinto particolarmente sotto tanti punti di vista, pochi difetti, quindi in conclusione questa è una scarpa che secondo me può andar bene un po' tutti e abbastanza su quasi tutti i tipi di terreno ecco, anche se dovessimo fare dei trekking un pochino più impegnativi. Secondo modello di cui voglio parlare sono le The North Face Vective Endoris, in questo caso la versione 2. Io provai la 1 all'epoca ma rispetto alla versione 2 cambia comunque poco. Come suola abbiamo una Surface Control di The North Face, una suola che non mi aveva convinto molto dal punto di vista del bagnato, quando piove anche col fango sì e no, nel senso si pulisce molto velocemente ma la tessalatura non è così profonda. Per quanto riguarda invece l'intersuola questa è molto ben ammortizzata, infatti potete vedere la sua altezza dell'intersuola e grazie alla tecnologia Vective ci restituisce una grande energia nel momento in cui andiamo a fare la rullata del piede, nel momento in cui non andiamo ad appoggiare il tallone e andiamo a spingere con l'avampiede. Per quanto riguarda invece la tomaia, è una tomaia molto traspirante, volendo c'è anche la versione in Future Light, quindi impermeabile. E che dire, questa è una scarpa che anche qua consiglierei un po' ovunque, tralasciando sempre la parte di terreni tecnici perché per quella poi vediamo il modello successivo. E che dire, anche questa è una scarpa un po' per tutto, ecco. Terzo modello di cui vi parlo sono le La Sportiva Akasha 2, una scarpa che inizio ad descrivervi dalla suola, qua abbiamo una Fription Red di La Sportiva, anche qua un compound abbastanza duro, quindi durevole nel tempo ma poca presa sulla roccia, ma per il resto una suola che mi aveva convinto abbastanza. Il pregio non da poco di questa scarpa, l'ho inserita all'interno di questo top 5 è che può andar bene anche su terreni un po' tecnici. Abbiamo un'allacciatura grazie a questa struttura sulla tomaia che è molto fasciante, molto cosiddetta a calzino e soprattutto abbiamo un ottimo contraforte tallonare. Da questo punto di vista questa forse è la scarpa migliore per la parte tecnica. Per il resto poi va bene un po' ovunque, sia camminarci su sentieri di fondo valle che con gli escursionistici di montagna. Motivo per il quale è stata inserita inoltre è l'intersuola, un'intersuola in eva iniettato, ovvero un'intersuola che ha un buon rapporto tra reattività e ammortizzazione. Come dicevo neanche questa è una scarpa dove si va a sprofondare ma restituisce una buona energia nel momento in cui andiamo a camminarci. Quarto modello di cui voglio parlare sono queste ASICS gel trabuco 10. Queste particolarmente consigliate per la suola. La suola proprietaria di ASICS chiamata ASICS grip è quella che mi aveva convinto di più per quanto riguarda proprio anche la mescola. Mi avevo trovato molto molto bene anche come grip su roccia bagnata e se state cercando una scarpa come dire anche per qualsiasi tipo di meteo allora io vi consiglio questa qua. Nel particolare esiste anche la versione in Gore-Tex di cui però purtroppo non ho mai avuto modo di provarla. Per quanto riguarda Tomaya è una Tomaya anche questa molto molto traspirante un pochino più fragile delle altre dal punto di vista della durabilità quindi fateci un attimo attenzione però per il resto è stata una scarpa che mi ha convinto molto anche pochino sul tecnico non troppo non troppa parte tecnica però diciamo che se troviamo qualche roccetta lei ci ha aiuto ad affrontarla abbastanza bene. Quinto ed ultimo modello ma non per importanza le scarpa Spin Infinity. Queste scarpa mi hanno convinto sia per la suola Vibram e Megagrip quindi non penso di dover dare altre spiegazioni. Inter suola abbastanza convincente ma questa scarpa mi va particolarmente convinto per quanto riguarda le rocce nel senso che abbiamo tutta una protezione laterale sulla Tomaya che anche se dovessimo prendere dentro in rocce o qualche roccia caderci addosso non sentiamo nulla perché ha tutta la parte di inserti termosaldati e inoltre nella parte inferiore a tutta una placca che ci evita di sentire le rocce quindi noi possiamo camminare su rocce anche appuntite ma non le sentiremo nella pianta del piede e naturalmente questa placca che ci permette di non sentire le rocce a lungo andare è davvero un pregio non da poco perché se andiamo a fare dei sentieri particolarmente tecnici ci aiuta a non far affaticare il piede. In conclusione eccoci qua cinque scarpe vorrei fare anche un piccolo ragionamento sul prezzo queste scarpe costano tutte tra i 110 e 140 euro poi vi lascio qua sotto un paio di link per acquistarle sono scarpe che alla lunga possono durare per tanti chilometri io ci ho fatto abbastanza chilometri per facendoci trail e naturalmente facendoci trekking l'usura è minore quindi è un investimento che alla lunga può ripagare perché non sono scarpe che si vanno a distruggere molto facilmente. Detto ciò a me piacerebbe sapere anche da voi che scarpe utilizzate se non utilizzate qualcuna di queste cinque o utilizzate qualcosa di diverso nel caso come al solito vi chiedo di scrivermelo qua sotto nei commenti e detto ciò ragazzi io vi ringrazio per guardare anche questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao